Siamo alzati di buon'ora stamattina per andare a pescare su una scogliera con la tecnica della canna bolognese galleggiante, esca a bigattino e la speranza è quella di catturare qualche sarago, occhiate e se capita anche la spigola. Siamo a Palinuro, una località del Cilento, un posto meraviglioso e vi presenterò dopo il mio compagno di pesca che è Paolo Cavazza, uno dei dirigenti dell'azienda Tubertini, il fondatore insieme a Gabriele Tubertini della prestigiosa azienda di Pazzano. Ora ci affrettiamo perché vogliamo pescare subito dal bore perché in quel periodo i pesci sono particolarmente attivi, quindi ci affrettiamo e andiamo a pescare. Siamo passati all'interno di un buco, di una cavità, facciamo anche un po' gli speleologi per andare a pescare, però la zona credo che meriti questi sacrifici. Siamo in una grotta praticamente e ora dalla parte esterna c'è una visuale bellissima, e il mare batte giusto e è un punto a detta dei locali molto buono per insediare saraghi e spigole. Siamo un po' nello stretto come vedete, però d'altronde passando da un buco così stretto non è che dalla parte opposta poteva esserci una piazza. Il posto mi piace molto, l'ho visto ieri al giorno e c'è una bella corrente giusta sotto, batte il mare e c'è un ottimo rigiro di acqua, quindi le premesse sono positive. Siamo in inverno e malgrado che siamo nel sud Italia, abbiamo preso delle piazza, giornate abbastanza fredde, per essere soprattutto in queste località dove il freddo non sanno quasi mai cos'è. Questa mattina c'era a 7 gradi, siamo in pieno gennaio, quindi è anche giustificata questa temperatura. è già un po' che stiamo pasturando e ora fra pochi minuti viene l'ora quella giusta, quella dove dovrebbero cominciare a mangiare se nella zona c'è la presenza dei pesci, dei pesci. Questa mattina c'è Paolo? Una spigola? Eh sì, una spigolotta. e c'è un po' il mare lungo fa molta risacca e stava portato via il pesce eccola bravo Paolo primo pescetto bellino dai d'altronde te hai la leve 8107 che è una canna più per le spigole che da scogliera io pesco più con la canna da scogliera con la 7000 vorrà dire che io prenderò il zanago allora e te e te una bella spigolona Paolo è reincarnato bellino? si rispetto a te cos'è un'altra spigola o un zanago? così sembriva un zanago un zanago e un zanago da come si comporta un zanago è anche bellino no? pezza raghetto reale qua c'ha il 12 12 di filo vai eh c'è un raga da mezzo filo eh? bravo eh il zanago ha anche visto ecco è di modo il guarino? ma eeeh provo a tirarlo su di peso vai non è grosso dai la 7100 vai la 7100 va testata eh una canna nata apposta per fare la pesca a saraghi in scogliera ora aspetto l'onda adesso provo a tirarlo su eh pesce da 3 etti eccolo ta 7100 la canna totalmente affidabile per pescare dalle scogliere pesce da 3 etti io do il filo del 14 florocarbo chiaramente chiaramente carbo white un dei florocarbo più validi che si può reperire sul commercio è distribuito da Tubertini carbo white 014 è un posto che mi piace dove stiamo pescando si chiama l'arco naturale è qui a Palinuro e siamo alle foci di un fiume che è il Mingardo un posto che mi piace come ho detto perchè per ora non ci sono pesci piccoli che disturbano l'azione di pesca abbiamo agganciato diversi pesci e tutti in Italia quindi è un posto valido l'arco naturale è qui a Palinuro ce l'ha consigliato il nostro negoziante di fiducia di zona che è il signor Pompeo negozio dove potete trovare tutto il materiale che vi necessita compreso chiaramente tutti i prodotti Tubertini Giorno Giorno Sì, deve essenziale che ho anche detto Paolo. Sì, sta cercandovi la buca qui sotto. Eh sì, è d'Aguadino, sì. Penso sia d'Aguadino. Sto tenendo un po' perché visto che voleva andare sotto a cercare la buca, beh, sarà gotto. Attento che te lo porto nel Guadino. Aspetta, aspetta. Problematiche di quando si pesca col mare così mosso e cercare di sfruttare l'onda. Allora, eccolo, vai. Vai. Sono dei bei pesci. Come vedete, sono zareghi tutti d'Italia. Ora, ora lo perdo. Sono dei bei pesci. Diciamo, sono i classici della pesca bolognese in scogliera. Una bella taglia. Un po' zareghi è divertente perché mette a dura prova tutta l'attrezzatura e occorre comunque pescarlo con una canna con azione rigida di punta. E un attrezzo anche robusto e affidabile perché spesso dobbiamo forzarlo, il pesce, perché altrimenti va a finire sulle rocce nel tentativo di liberarsi. Beh, l'izzaro reale c'è un fascino particolare. È un fascino particolare la pesca con la canna bolognese dove noi italiani siamo maestri, l'abbiamo inventata noi e è praticata in tutta la nostra penisola. È una pesca veramente divertente. Si esercita con fili sottili, attrezzature veramente dove si ha al massimo contatto con il pesce. E quando si realizzano catture come in questa occasione il divertimento è al massimo. È una tecnica comunque che ha bisogno di un'attrezzatura specifica e valida proprio perché siamo al limite anche con i fili, con gli ammi impiegati e con l'attrezzo che utilizziamo. Ora l'abbiamo slamato. Abbiamo messo la roba un po' a riparo però eventualmente da qualche ondata imprevista e lo mettiamo a far compagnia agli altri pesci che abbiamo già preso. Vedete la taglia? Abbiamo già preso quattro saraghi di bella taglia e una spigola. La giornata comunque è lunga e vedremo di effettuare qualche altra cattura. Questa è il sarago che la fa da padrone per adesso comunque anche gli altri sono pesci di tutto rispetto per chi pratica la pesca bolognese sa che questi sono pesci già di una certa taglia. prezzo, eh Paolo? E' un altro sarago? Eh, non lo so. Sì, sarago è anche questo. Sì, altro sarago. Bellino, eh. Come quell'altro. Guardi, ma è un bel pesce. Mi sento bello peso. Lo vedo laggiù in fondo ma è bello peso. Ci proviamo, eh. Testiamo l'attrezzo. Eccolo. 7100. Eh? Grande canna, eh. Grande canna. Pesce da 3,5. Anche e anche. Abbiamo tirato su di pesce. Abbiamo testato la canna. Non si è rotta. Quindi vuol dire che è affidabile. Abbiamo tirato su da 5 metri, eh. Perché siamo a circa 4,5-5 metri dall'acqua. Io generalmente sono sempre in barca. Ho bisogno del dondolio dell'imbarcazione per provare l'emozione della pesca. Ho fatto tanti anni la canna d'arriva e ho pescato tantissime volte a Bolognese. Soprattutto col mare scaduta, a Saraghi. E oggi, qua nel Cilento, devo dire che il posto che ci ha consigliato Pompeo per ora sta avendo dei buoni risultati. Abbiamo preso diversi pesci e mi sto divertendo. Sono ritorno indietro nel passato di quando pescavo veramente spesso e volentieri con la canna bolognese. Soprattutto col mare scaduta, come in questo caso. Ora provo a montare un galleggiante diverso dalla pallina classica con cui il pesco quasi sempre ha scaduta. Monta un galleggiante fisso con una fiumbatura più raggruppata e più pesante. Per entrare prima in pesca, perché il mare ha aumentato un po' la turbolenza e quindi voglio stare in una determinata zona un pochino più fermo e più stabile. L'importante nella pesca bolognese, soprattutto col mare scaduta, è riuscire a stare nel punto dove si incanalano i bigattini che tiriamo come pastura. E per stare lì spesso dobbiamo anche fare dei cambiamenti, aumentare la grammatura o cambiare il galleggiante e metterlo più peso, più leggero a seconda del moto ondoso. Infatti pescando ogni scaduta troviamo a volte diverse varianti durante la giornata dovute comunque all'aumento o al calare del moto ondoso. In questo caso un moto ondeggiante da 3 grammi fisso con una piombatura vedete molto raggruppata. Un bulk di pallini concentrato e 3 o 4 pallini sotto sempre con uno svolazzo comunque da 1 metro o 1 metro e 20. In questo tipo di tecnica si utilizzano degli ami che vanno parlando chiaramente di una pesca fatta in scogliera con ami che vanno dal numero 14 al numero 10 a seconda della taglia dei pesci e di quanti bigattini vogliamo innescare. Io preferisco fare alzare un innesco con un bigattino a coprire l'amo e 2 o 3 bigattini appesi a muovere. a coprire l'amo a coprire l'amo a coprire l'amo a coppu per me a coprire l'amo ta o un carro che c'era avano La fatturazione con bigattini deve essere fatta costante e a piccole quantità. Vedete, una manciata di bigatti gettati in acqua o sotto a seconda del giro di corrente che è, oppure lanciati per far prendere la corrente a bigattini e incanalarli nella traiettoria d'uscita della corrente. L'importante è non eccedere mai piccole quantità ma spesso, è il segreto della pesca bolognese col bigattino. È uno dei segreti, perché poi ce ne sono altri. Uno fondamentale in questa tecnica qua è riuscire a fare la passata col galleggiante, far prendere la corrente al galleggiante in uscita. E quella è una cosa semplice a dirsi ma difficile poi a mettere in pratica. Spesso effettuiamo una decina di lanci e riusciamo a fare perfette solo due o tre passate a seconda delle condizioni meteomarine. Poi altre difficoltà in questa pesca qui, ad esempio, come in questo caso, sono dovute al sole che è messo in una posizione che è proprio davanti alla linea dove dovremo pescare. E quindi non ci facilita l'avvistamento del galleggiante. Vedete, in questo caso un'onda più grossa delle altre ci ha spostato letteralmente il galleggiante che era in pesca. Questo è un bel pesce, ma come tira sembrava un zarago grosso grosso, dovrebbe essere anche onorata dalla partenza. Un bel pesce. Che pesca è questa piccola bolognese, è stupenda. Aspetta perché un po' ci vuole qua. Sto Ivo ha stancato un po' perché è bello. Come dico io, è un banano. Non enorme, ma insomma è un bel pesce, mi ha dato una bella partenza. Aspetta, ecco, col guadino aspetta, fammelo portare a modo... Pesce impegnativo, poi più che altro anche perché il moto ondoso non ci aiuta. No, è un zarago bello, bel pesce, ma sembrava un pesce più grosso. È un bel pesce, è un bel pesce. Grazie. Si vede, era più energico. Insomma, sono bei pesci, ragazzi. Amici di Italian Fishing TV. Ma sono dei zaraghi, eh. Non è che sono pesci da tutti i giorni. L'amo è del numero 14 in questo caso, però è un amo che a me dà molte garanzie da tanti anni che lo impiego. È la serie 10, i tubertini, e in questa occasione è il numero 14. Un amo piccolo, ma robusto e soprattutto con una punta a rientrare che facilita la lamata del pesce e riduce al minimo le slamature. Un amo indicato sia per pescarci orate, spigole. Un amo che non si trova mai in difficoltà, anche con pesci di diversi chili. Un posto bellissimo, ma come tutti i posti bellissimi, siamo un po' nello stretto nei movimenti. Però a noi va bene così, eh. L'importante è che ci sia questi stupendi pesci. Poi anche se facciamo fatica a muoversi sugli scogli. Pompeo, per cortesia mi passi il portapesci, che sarebbe un portapastura col coperchio. però è molto comodo per metterci dentro pesci, soprattutto in una scogliera come questa. Ragazzi, per ora direi che sta andando abbastanza bene. Bello, bello, bel bel pesce pesonero. Malgrado la serie 8100 sia al top della gamma Tubertini, quindi un prodotto con delle caratteristiche particolari di leggerezza e di bilanciatura. Vedete come si comporta bene anche con un bel pesce allamato. e Paolo ora lo sta forzando anche perché altrimenti il pesce va a cercare la roccia per liberarsi. Dovrebbe trattarsi di un bel sarago. Le ha fatto una bella partenza. Ma la canna lavora in maniera perfetta. Azione marcata di punta. Ma Paolo sembrava un'orata. No, una spigola, un'altra bella spigola. Questa è bella, si. Bel pesce. Bravo Paolo. Una bella spigola. Salvata. Eh, bravo Paolo. Bravo veramente. Ma allora la 8000 è proprio una canna da spigole. Eh? Il mulinello è un gioiello. Il mulinello è un gioiello veramente. È il nuovo nato in casa Tubertini. È di una leggerezza disarmante. È l'ultimo nato in casa Riobi in titanio, no Paolo? Carbonio titanio. Carbonio titanio. Un mulinello di una leggerezza veramente unica. Unita a tutte le caratteristiche poi di Riobi, chiaramente, sia sull'affidabilità che sull'imbobinatura perfetta come tutti i mulinelli riobi. Bravo Paolo. È preso veramente un bel pesce. Dammi un 5. Era quello che ci mancava. Ma non è che finisce perché io voglio continuare a pescare. La leve 8100 è, si è confermata una canna da spigole. Io sto pescando con la 7100 e non ho toccata una. Eh? Sarà per quello. Però ho preso diversi saraghi belli e onestamente anche la 7100 è una canna bilanciatissima. E chiaramente è una canna da poterci forzare per i pesci e che a me piace di più di scogliera. Paolo ha voluto utilizzare, dico io, il niente perché la 8100 abbinata allo slam non abbiamo veramente niente in mano. Una leggerezza unica sia a livello di canna che di mulinello. Il massimo, diciamo, per la leggerezza. La prenderò da 3 kg ora. Non capisco. No, guarda la spigola! l'ho presa eh la spigola, l'ho detto un pesce bello e l'ho presa la spigola, cioè agganciata l'ho agganciata e lei è proprio bella vera, pesce grosso, pesce da 3 kg, 3 kg abbondanti, questa è dura eh, vai te Paolo a guadinarmela, vai te Paolo a guadinarmela la spigola, no ascolta Paolo, è grossa, questa va lavorata a un modo perché spigola da 3 kg col filo del 14 bisogna aver pazienza e non deve andare chiaramente a strusciare su questi scogli altrimenti con l'attrezzatura che stiamo utilizzando cerchiamo di stancarla il più possibile, vedete guarda il bel pesce sta ripartendo ora, sta prendendo verso il largo, chiaramente non la voglio forzare più di tanto, piacerebbe averci un bel filo del 20 con l'amo di un 10 anziché un 14 con l'amo del 14, ora l'abbiamo visto proprio bene, pesce superiore a 3 kg, pesce da 4 kg almeno, io rido lo scherzo ma l'impresa di prenderla è dura, soprattutto quando arriverà a tiroguadino perché è un pesce così grosso, quando arriva a tiroguadino è il momento più difficile. il pesce sembra un po' stanco ma ora c'è da portarla nel guadino, vai aspetta! attento all'innesto, tirala su dritta, tirala su dritta, grande questo è un pesce, ragazzi questo è il cilento, questo è Polinuro, emozioni a non finire, una spigola indiretta da 4 kg con mare agitato, filo dello 014, amo dello 014, capita spesso di prenderle, ora non spesso, capita di prenderle, ma di prenderle quando facciamo un filmato è una cosa abbastanza rara diciamo e oggi ci siamo riusciti, grande pescata con grande pesce nell'insieme della pescata. ora ci godiamo questa stupenda creatura, questa spigola bellissima, bellissima anche proprio come livrea e come affusolata, è un pesce bello, non è un pesce buzzone, è un pesce bello, pesce che ci ha messo a dura prova tutta l'attrezzatura, testata più di così non si può l'attrezzatura. diamo serie 10 numero 14, canna 7107, che 7 sta nella misura, 016 in bobina, top scorer e mulinello vertigo 4.500. Questa è l'attrezzatura con cui abbiamo preso questa stupenda spigola. ora io vorrei che Paolo, visto che io gli ho dato un 5 per un pescetto da un chilo, me lo rendesse il 5 perché l'avevo dichiarato, era tutto in sequenza. L'ho preso da un chilo, io la prenderò da 3 kg e come sempre ho esagerato, l'ho preso da 4. Però la canna, credetemi la 7107 è un grande mezzo, grande prodotto. becco... beautiful... Grazie a tutti. Ha agganciato il banano anche Paolo, ha lo spigolone, ha lo spigolone, questa sembra sui tre chili, questa sembra un pesce, a vederlo così, è simile a quell'altro. A me sei provare la tua. No, è un po' più piccola, però porta là in porto, con calma, non c'è furia. Tanto la gente che ti sta guardando è a sedere sul divano, se la sta godendo tutta. Quella è proprio la canna da spigola, l'8100 è da spigola. Lo dico perché voi non avete visto la sequenza. Avevo caldo ora perché è uscito fuori il sole, mi sono levato la felpa di sotto e nel frattempo Paolo mi ha punito. Non ero in pesca, non potevo farci la doppia, capito? Però è giusto così che se la gusti lui, d'altronde lui ha la canna da spigola, niente da fare. Molinello veramente leggero, non vi rendete conto lo slam com'è leggero. Se la sta godendo, lui sta godendo ora in una maniera che non avete idea. Se la sta gustando, io lo stuzzico un po', lo sto stuzzicando perché con un pesce da 3 kg in canna, col filo del 14. Ah, non vi ho detto un particolare. Prima, quando io ho preso la mia, quando sono andato a sostituire il finale, chiaramente, perché il Carbo White è grandissimo quello Carbo, ma quando prende un pesce da 4 kg è buona norma sostituirlo il finale. Ho visto che avevo un nodo a metà finale. Quindi ho preso una spigola di 4 kg col 14 con un nodo a metà finale. Questa per farvi, per rendervi conto quanto è buono il Carbo White. Non solo il 14, ma con il nodo. Ora scendo giù, faccio un po' di mesle. Sì, tranquilli. Eccomi. Metto un pochino più vicino all'acqua. I telespettatori d'Italian Fishing TV sono tutti sul divano, quindi più piccola, più piccola, più piccola di un chilo e due, un chilo e mezzo più piccola. Grande pesce, pesce da 2,8-3 kg. In porto, in porto la seconda spigolona. Aspetta che chi mi porta via il guadino? Scendo un po' più basso. In porto quando ce l'abbiamo in mano. Perché qui la situazione non è... Questo l'abbiamo preso, il cerchio l'abbiamo agguantato. Grande Paolo! Grande Paolo, seconda spigolona! Ragazzi, l'attrezzatura conta a questi cani, eh? Abbiamo preso due spigole mostruose col filo del 14. E con delle canne spettacolari. Queste cose si fanno solo utilizzando delle attrezzature al top. Altrimenti ci avreste sentito dire abbiamo agganciato due spigole grosse 6 kg perché quando si perdono sono più grosse e le avremmo perse. Invece due su due. Non è un caso, eh? L'attrezzatura è determinante. Grandi, te lo do io al 5. Però mi ha un po' massacrato a spigole, eh? Ne ha preso tre io una. Ho preso la più grossa, eh? La più grossa. Però ne ha preso tre, eh? Se andiamo a numero... A numero, vedi te. Meno male che le gare vanno anche a pesco. Grandissimo. Grandissimo. Poi che pesce, guardate che bellezza. Ora, sembra tutto facile, no? Non siamo in un acquario, siamo in una zona dove ci vengono comunemente a pescare. La differenza delle pescate le fanno le attrezzature che impieghiamo e anche la quantità di bigattini che buttiamo nell'acqua. Perché se pretendiamo di andare a pescare con un euro di bigattini per fare scifra tonda come molti fanno chiaramente non si ottengono questi risultati. Noi siamo venuti con 6 kg di bigattini buttati sempre pian piano a quantità ridotte ma continue e chiaramente ci vengono sotto dei pesci dove peschiamo come questa stupenda spigola e come le altre che avete visto. Poi chiaramente Palinuro è una zona che si presta a fare queste pescate. vi consiglio vivamente di venire in queste zone perché sono posti bellissimi a livello proprio paesaggistico e per noi pescatori quello che ci interessa sono questi pesci questi pesci qua i saraghi, le spigole e ci sono anche dei periodi dove si catturano diverse orate quindi si chiude un cerchio sulla pesca bolognese a 360 gradi. Grandissimo Paolo, l'hai voluta prendere anche te la spigola. poi te te la sei gustata l'hai presa con l'attrezzatura veramente ultra light io dal video certe cose non si possono far vedere ma si ragiona di niente si sto agguantando la canna hai un nodo anche te? guardate inquadralo, avete visto la sequenza quindi non è che abbiamo fatto qualcosa guardate questo qui è un nodo questo qui che vedete è un nodo sono 0,14 del carbo white ragazzi vi stiamo parlando di qualcosa non è stato un caso ragazzi due nodi su due spigole e l'abbiamo preso tutte e due l'amo vedete guardate con cosa stiamo pescando l'ha leggermente aperto leggermente un'amo del numero 14 sì 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 abbiamo preso un po' di pesce siamo sempre nelle regole perché i 5 kg a testa sono sfruttabilissimi oggi peschiamo in due ma siamo in 7, 8 quindi cioè a 5 kg a testa anche se peschiamo in due perché qualcosa poi si porteranno via si sa cosa qui se ci distraiamo è finita dobbiamo chiuderle con la scerniera no abbiamo tutti i fans e tutti i pescatori questi che vedete sono tutti i pescatori c'è Pompeo il negoziante di zona a cui potete chiedere consigli sui posti sulle attrezzature Maurizio dov'è Maurizio? Maurizio abbiamo perso Maurizio Maurizio è il ragazzo che ci ha ospitato nel residence qui a Palinuro e queste sono tutte persone che sono state con noi sin da ieri siamo arrivati ieri giornata piovosa oggi l'unica giornata diciamo di sole in questo periodo invernale ci ha reso delle catture fantastiche io erano anni che non mi divertivo così a pescare a Bolognese e credo anche te Paolo esatto malgrado tu ogni tanto scappi nella tua casa in Corsica e quindi c'è le condizioni però le spigole così grosse sono sempre qualcosa di particolare ora noi continuiamo a pescare perché se ce n'è due ce ne può essere anche tre no Paolo siamo in tanti siamo in tanti e quindi ci serve un po' di pesce per la scena che faremo domani il mare sta calando e è già un po' che sto ho iniziato a pasturare con la fionda perché peschiamo un pochino più più distanti infatti le spigole le due grosse le abbiamo prese proprio così pescando un pochino più lontani e sfiondando bigattini sopra il galleggiante sopra da dove viene la corrente probabilmente a monte della corrente la fionda occorre utilizzare una fionda che contenga una quantità come questa di bigattini con degli elastici un po' potenti da poter lanciare perché in queste situazioni ci troviamo sempre a far fronte con il vento e quindi ci vuole una fionda che spinga bene i bigattini ho fatto realizzare da Tubertini la fionda Maggot che è una fionda perfetta per esercitare la pesca dalle scogliere la Maggot ha la caratteristica di avere un cestello che rimane sempre aperto ma morbido vedete questo è l'ideale per lanciare bigattini concentrati e a lunga distanza analizziamo un po' l'attrezzatura che abbiamo utilizzato per questa pescata qui nel Cilento e precisamente a Palinuro due tipi di canne abbiamo impiegato io e Paolo come avete visto nel filmato io sono più propenso per pescare da una scogliera con la level 7000 la serie 7000 e ho utilizzato due tipi di montature su due chiaramente su due 7 metri ho impiegato il galleggiante a pallina che è questo galleggiante che è indicato per pescare nella schiuma e si chiama serie 950 parte da un grammo e arriva a 10 grammi le caratteristiche di questo galleggiante sono due essenzialmente uno che è realizzato un poliuretano espanso a cellule chiuse quindi non assorbe acqua e l'altra caratteristica che vi è questo tubicino di plastica con un forellino il filo viene passato all'interno del galleggiante inserito nel forellino e in questo modo si ferma il galleggiante sul trave della lenza il filo oltretutto esce praticamente in asse in ambe due i lati e quindi il galleggiante è perfettamente in direzione e quando si lancia non tende a ruotare galleggiante 950 parte da un grammo a 10 grammi generalmente per pescare una scogliera in queste condizioni 3, 4, 5 grammi sono le grammature ideali l'altro galleggiante che ci avete visto utilizzare sia da me che da Paolo quando sono cambiate le condizioni di pesca è questo si chiama 960 Tubertini 960 ha praticamente un foro interno dove passa il filo quindi è privo di anellino questo per portare in asse perfettamente il filo perché sui galleggianti bombati poter inserire il filo in asse è sempre conveniente prima di tutto perché non rovina il galleggiante e lavora perfettamente sulla lenza oggi abbiamo utilizzato il Paolo 2,5 grammi e io il 3 grammi con una piombatura come avete visto diversa dal galleggiante 950 qui adottiamo una piombatura col bulke un pochino più raggruppata proprio per entrare prima in pesca mentre per quanto concerne i fili che abbiamo utilizzato in bobina sono gli onnipresente top scorer e tatanka evo silver due fili con caratteristiche simili perché entrambi sono fili da mulinello quindi molto morbidi con pelo specifico leggero questo ci consente di effettuare dei lanci maggiori soprattutto quando operiamo con dei galleggianti che non sono pesanti nell'ordine dei 2 3 grammi 4 grammi questi due tipi di nilo o di florine meglio perché si tratta di florine sono ibridi fra il fluorocarbo e il nilo ci consentono di effettuare lanci maggiori e inoltre sono florine il florine è un filo che tiene molto sui nodi e all'abrasione quindi ha delle caratteristiche ideali per poter pescare in mare dalle scogliere o a qualsiasi altro pesce per gli ami invece la scelta è caduta io sono un patito di questa serie che è la serie 10 un amo robusto una punta micidiale una punta affilata chimicamente l'amo è costruito in carbonio e acciaio e le caratteristiche principali sono la leggerezza e la resistenza due caratteristiche fondamentali quando si innesca dei bigattini quindi un'esca piccola e leggera in questo modo il nostro innesco si lavora in acqua in maniera naturale e quindi più catturante di altri ami pesanti serie 10 tubertini abbiamo utilizzato il 14 come misura e come vi ho ripetuto i numeri ideali per fare questo tipo di pesca partano dal 16 al numero 10 e qui ora andiamo a farvi vedere il vero protagonista della giornata protagonista indiscusso Carbo White Florocarbo eccezionale un prodotto veramente di altissima qualità che io uso da tantissimi anni col quale mi sono levato delle grandi soddisfazioni sia in competizione sia nella pesca maturale tutti i giorni con lo 014 come avete visto è un caso è stato un caso che su due finali su due spigole di quelle dimensioni ci fosse un nodo quindi il nodo ha ridotto ha ridotto e ridurrebbe qualsiasi altro Florocarbo fino a spaccarsi col Carbo White questo non è successo e abbiamo portato dentro il guadino due spigolone dal record quindi Carbo White è stato testato oggi nel miglior modo possibile le misure partano dallo 0,6 allo 0,18 e la confezione è da 50 mesi ora vediamo i tre mulinelli che abbiamo utilizzato oggi ognuno con caratteristiche particolari e uniche questo è lo Zauber CM un mulinello che viene realizzato in quattro misure 1000, 2000, 3000 e 4000 diciamo è un top di gamma per lo spinning ma sulle bolognesi è un mulinello eccellente Zauber CM 3000 frizione solite frizioni riobi impeccabili costruito con materiali anti-salsedine quindi può essere utilizzato tranquillamente in mare e il rapporto di recupero 5-2-1 Zauber CM riobi distribuito da Tubertini vediamo adesso gli altri due questo è il mulinello che ha fatto la storia diciamo negli ultimi anni un mulinello conosciutissimo dalla gran parte dei pescatori ossia la serie Vertigo la serie Vertigo viene impiegato un po' in molteplici tecniche di pesca dall'acqua interna alla trota al mare allo spinning le misure partano dal 1500 al 5005 quindi sfruttabili sia anche dalla barca ma soprattutto spinning bolognese e dove inglese mulinello un po' polivalente diciamo molti pescatori in Italia lo hanno nella loro attrezzatura Vertigo in questo caso abbiamo utilizzato il 4005 sempre realizzato dalla Riobi e distribuito dall'azienda Tubertini adesso invece voglio presentarvi l'ultimo nato in casa Riobi mulinello nato con la collaborazione nostra Tubertini si chiama Slam mulinello particolare particolare perché ha un peso veramente irrisorio ridotto ai minimi termini è tutto realizzato in carbonio e titanio mulinello di una leggerezza unica si ha l'impressione che sia che sia vuoto invece Riobi con lo Slam ha creato un prodotto di altissimo livello soprattutto da abbinare sulle bolognesi e comunque la serie Slam parte dal 1000 al 6000 quindi utilizzabile in molteplici pesche che si possano fare sia in mare che in acqua interna il 6000 è un mulinello che può essere utilizzato anche per un beach leggering o per una pesca dalla barca a fondali non superiori ai 60-70 metri Slam è un mulinello ultra leggero lo Slam è un mulinello che è curato nei minimi particolari quello che volevamo noi dalla Riobi creare un prodotto veramente di punta con delle caratteristiche uniche si è cercato di alleggerire il più possibile utilizzando materiali appunto ultra leggeri carbonio e titanio ma allo stesso tempo conferire allo Slam robustezza e affidabilità totali quello che è sinonimo sempre di Riobi e Tubertini pescata ottima qui a Palinuro abbiamo preso 4 spigole diversi saraghi reali di buona taglia e la pesca con la Bolognese è una pesca divertentissima non serve molta attrezzatura ma quella che utilizziamo deve essere perfetta perché abbiamo a che fare anche con questi pesci e utilizzando un'attrezzatura al limite deve essere veramente perfetta il mio compagno di giornata è amico da 25 25 anni e tanti anni ci conosciamo con Paolo Cavaccia e noi ci siamo divertiti veramente tanto tantissimo abbiamo testato le attrezzature ma più che altro abbiamo passato una giornata di pesca stupenda qui nel Cilento in compagnia dei nostri amici Marco che ci ha fatto da assistente e che ci ha consigliato di venire in queste zone e da Maurizio che ci ha messo a disposizione gli appartamenti del suo residence un bel residence dove siamo stati coccolati dove siamo stati veramente bene Pompeo è il negoziante di fiducia a cui potete chiedere indicazioni di pesca e di attrezzature ha chiaramente tutti i prodotti che vi ho menzionato e niente un ringraziamento agli altri tifosi perché dietro erano arrampicati come decamosci sugli scogli per vederci pescare e vederti da fuori dei pesci bellissimi come questi un ringraziamento a tutti gli amici di Italian Fish TV da Marco Volpi da Cavazza Paolo e e e un appuntamento ai prossimi video sempre con Tubertini ciao a tutti e alle prossime ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.